Con l'efficio sopranzetti a Cingoli, Cervidone e l'innovazione unita alla tradizione molitoria delle olive fanno di questo frantoglio un'eccellenza marchigiana di tutto rispetto, con tradizione familiare nelle splendide campagne cingolane di Cervidone, dove gli olivi la fanno da padrona, tutto intorno per il piacere di vedere un panorama ricco di emozione e di bellezza. Grazie